ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale di stilograficamente qui si parla di stilografiche devo ringraziare dario f per avermi prestato questa parker sonnet flyter ct dario grazie questa è la terza penna che mi presti grazie mille parliamo un po del contesto di questa penna alcuni esemplari che ho visto su internet sono datati tramite dei codici che utilizza parker per datare le proprie penne imprime in questo caso qui sulla veretta del cappuccio sono ci sono codici di questo modello che riportano la data del 91 corrispondono la data del 91 in ogni caso si sa che questa penna dagli anni 90 è arrivata fino ai giorni nostri e la sua produzione continua quindi modello ben riuscito è arrivato in differenti varianti l'abbiamo vista la potete osservare in varianti cesellate la potete osservare in varianti di marmorizzate in lacca nera come prodotto adesso in ogni caso comunque la dicitura ct sta per chrome trim quindi rifiniture cromate gold trim sarebbero state d'oro sia in termini di clip veretta e pennino così come gli anellini che trovate all'inizio e fine della sezione di scrittura qualche coordinata generale su su parker come come azienda è stata fondata come parker pen company nel 1888 ad opera di george seppard parker nel wisconsin in america ebbe produzione a new heaven nell'east sussex e dopo questa produzione inglese che terminò nel 2011 la produzione fu trasferita in francia la clip che state osservando anche su questo modello viene introdotta dalla parker nel 1933 col modello vacuumatic che appunto riporta per la prima volta la clip a forma di freccia che in realtà era stata brevettata da joseph plat nel 1932 questa penna qui è una penna adattata non so se riesco a farvelo vedere però comunque citerò nella descrizione del video la fonte a cui mi sono rifatto per datare l'esemplare come potete osservare comunque la dicitura è sonnet france i.1 i.1 corrisponde in buona sostanza al terzo trimestre del 2004 parliamo della penna in sé per sé livrea moderna essenziale molto semplice vedete comunque il fondo e la sommità della penna comunque si rispecchiano è interessante questa corrispondenza tra il fondo e l'apice del cappuccio l'impugnabilità della penna è agevolata dal fatto che comunque c'è tanto spazio in cui fa scorrere le proprie dita c'è uno svaso finale prima dell'alimentatore e del pennino in maniera tale che sappiate quando sta terminando la sezione al tatto il sistema di caricamento è a cartucce o convertitore scusate le dita sporche ma l'ho ricaricata visto che comunque nelle varie prove che ho fatto ho terminato l'inchiostro dal mio punto di vista merita diciamo un accostamento non so perché ma a me suggerisce l'aeronautica saranno le linee così essenziali così aerodinamiche non so perché ma ce la vedo nel cappotto di un pilota comunque va bene questa è la mia sensazione che lascia il tempo che trovo facciamo una prova di scrittura e vediamo come si comporta la beniamina di Dario allora modello parker sonnet che scrive con un pennino m in acciaio e sta scrivendo con un inchiostro aurora black a mio avviso uno dei migliori inchiostri per saturazione uno dei migliori neri al mondo vediamo come si comporta in termini di continuità del flusso allora qui devo essere un po' sincero la penna non si comportava in questa maniera per come mi era stata affidata da Dario che lamentava degli skipping e delle false partenze il pennino aveva qualche problemino l'ho un po' ovviamente previo suo permesso manipolato nel senso che i rebbi erano un po' disalineati nel senso che il rebbio dunque guardando il pennino il rebbio destro era un pelino più sollevato rispetto al sinistro li ho pareggiati e inoltre erano molto attaccati tra loro è normale che lo siano in punta sulla parte della punta di Dario non è normale che i rebbi siano appiccicati anche per tutto il percorso della fessura deve esserci un minimo deve passare un minimo di aria o di luce se voi mettete i rebbi di un pennino diciamo in controluce dovreste riuscire a vedere la luce filtrare per cui cosa ho fatto per fare questo tipo di interventi mi sono affidato ai fogli in ottone per separare un pelino i rebbi del pennino e poi ho leggermente piegato proprio usando le dita molto delicatamente ho piegato verso il basso il pennino che era orientato verso l'alto e l'ho pareggiato nulla di che quindi Dario puoi star tranquillo non ho stravolto diciamo la penna allora direzione di scrittura dal basso verso l'alto non gratta da destra verso sinistra non gratta né mi aspetto che dei rebbi pareggiati lo facciano però comunque lo sto verificando direi che non gratta variazione di tratto qui faccio un minimo di zoom scusate allora leggero un pelino più pesante un pelino più pesante allora con la dovuta cautela un po' di variazione di tratto tra qui e qui sono riuscito a ottenerla non è un pennino flessibile per cui non si presta a variazione di tratto molto grossomane allora parliamo degli aspetti positivi di questa penna moderna elegante leggera abbastanza leggera per essere comunque una penna in metallo sostanzialmente un alluminio credo il pennino a mio parere è un discreto pennino in acciaio che magari non vi perdona inclinazioni di orientamento quindi se voi fate delle grosse inclinazioni adesso giustamente il pennino si sente chiamato in causa e non lo fa però potreste avere degli skipping forse tutte le lavorative lo fanno scrivere meglio Dario fammi sapere se mantiene l'assetto che gli ho dato o se ti dà ancora problemi sono pronto quando ci vediamo a rimetterlo un po' in riga se dovesse avere memoria il materiale può capitare quindi tornando agli aspetti positivi penna molto compatta una via di mezzo a mio parere tra le penne che possono considerarsi da taschino e le penne da scrittura diciamo comoda la vedo come una scrittrice di ogni giorno per cui ve la potete portare in giro con tranquillità sinceramente come postura per la scrittura la preferisco stranamente col cappuccio calzato dico stranamente perché io non calzo mai il cappuccio proprio per paura di rovinare ma ho visto che calzandolo delicatamente ovviamente non rovina la satinatura della della livrea e oltretutto ha una buona tenuta cioè il cappuccio calzato calza piuttosto bene poi è chiaro che se ha dei residui di inchiostro all'interno un po' vi macchia dovete stare lì a pulire ma non nulla di grave come vedete non ci sono graffi non c'è trucco non c'è inganno aspetti non proprio positivi per le mie mani la linea della penna è molto sottile cioè l'impugnatura ha molto spazio senza dubbio ma la vedo un po' sottile come spessore come diametro non è una penna cicciotta come piace a me un qualche timore che la colorazione nell'uso mentre mi è stata affidata andasse via io ce l'ho avuto in tutta onestà vado anche se non è così perché questa qui è sopravvissuta dal 2004 al 2019 senza riportare graffi vado a scrivere la votazione finale ok allora flusso come potete notare qui non è un idrante ma non è neanche a vara di inchiostro per me un 8 su 10 potrebbe avere un flusso ancora più bagnato per cui non vado oltre l'8 la livrea 7 e mezzo su 10 una linea moderna molto semplice che non mi fa stravolgere per lei cioè non ho un trasporto che posso avere verso linee più originali un modello molto conservatore clip clip 8 su 10 a mio parere è un netto miglioramento rispetto alla jotter che possiedo cioè ha delle linee molto più fini per cui si merita un 8 il feedback mi ricorda un po' diciamo il ritorno che dà il pennino mi ricordano un po' i pennini aurora leggero feedback che dà una sensazione di controllo sulla scrittura quindi 8 su 10 distribuzione del peso soprattutto questo voto l'ho dato pensando al cappuccio calzato per cui un peso leggermente all'indietro che insomma aumenta un po' il peso della penna perché se non mettete il cappuccio a mio parere è un pelino troppo leggera un pelino troppo sì l'impugnabilità infatti cala un pelino in termini di 7 su 10 proprio perché è sottile come fusto è anche molto leggera è sottile il flusso soprattutto per l'impugnabilità devo dire questo il fusto è sottile manutenibilità 7 e mezzo su 10 perché sebbene sia a cartucce o convertitore quindi facile da pulire dal punto di vista del cambio della tinta che state utilizzando smontare il pennino e l'alimentatore non è così banale allora la penna non è mia e quindi non mi sono messo a forzare più di tanto con il grip però non sono riuscito facilmente a toglierlo poi da capire se sbaglio qualcosa io rapporto qualità prezzo per me è un 7 e mezzo su 10 ho visto un po' i prezzi che girano su internet soprattutto per un modello dei giorni nostri secondo me non posso andare al di là di questa votazione media finale 7,8 viene praticamente quasi un 8 su 10 Dario come hai visto dalle prove di scrittura dai voti e compagnia bella ancora qualche falsa partenza la dà perlomeno questa situazione di continuità del flusso adesso è migliorata prima mi dava skipping anche qui velocizzando notevolmente ovviamente perché se poi si va piano piano il flusso di inchiostro ha il tempo di arrivare in punta grazie ancora per avermela prestata grazie a voi tutti per aver visto questo video e vi do appuntamento al prossimo stilograficamente parlando ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti